bici ahhh è l'A5 ok dove voglio mandare? si va in centro vicino palazzo pizzi così almeno non ci vada da solo ma... perché è in bici? che cazzo mi sono domandolo dimiti ok ma che lavoro ha trovato? no era una domanda ma non mi ha detto di precise cose che era colloquio guarda io non potevo andare dove sei? dove sei? ogni settimana sempre puntuale a Jen? c 급 c c mi in chio x5 questo è successo questo è successo questa cazzeggia con la piscina non costa una piscina una 5x5 la 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 No, 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 no... No, 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 no! Pezzo di merda ti sta bene! Ti sta bene, pezzo di merda! Pietro ma tu C'hai un'armatura Ah ecco lo so vado a fare No Ero slime apposta Comunque si ragazzi Io mi sono fatto un'armatura di precauzione Che so cosa appunto può succedere Ritmo Diciamo signore Ieri sera è una bella armaturina Ah ah quella che ti ho rubato ora Sei molto bella l'armatura eh Pietro È bella l'armatura È bella l'armatura È bella l'armatura Non le trovi È bella l'armatura Pietro Bella 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 l'armatura Bravo è impossibile ora come ora mi ha ucciso più di due volte più di una volta è qua stupe di merda mi ero male va ragazzi ieri mi sono fatto una bella armatura mi sono fatto una bella armatura si sto arrivando oddio e niente clip